Bene amici, recensione Xiaomi 14T Pro 8,4 mm spessore, 209 grammi il peso, non leggerissimo ma impermeabile, P68, vetro e metallo non mi fa impazzire questo gradino sulla scocca ma si tiene bene in mano 50 e 50, la cam principale 2x poi, 12, 120 gradi un bel display piatto da 6,7 pollici di diagonale 4.000 mm l'unità massima, 144 Hz, bello fluido 12 GB di RAM, 256, 512, 1 TB, UFS 4.0, la memoria integrata batteria, 5.000 mAh, carica 120 W ma anche wireless scheda tecnica, devo dire, ci siamo, ci siamo ma forse la sfortuna sua è che l'ho provato dopo iPhone 16 e i fondamentali, l'esperienza d'uso non mi hanno fatto impazzire, forse un telefono così non se ne sentiva la mancanza vi spiego subito il perché lo prendo in mano, faccio quello che faccio sempre con tutti i telefoni per esempio, una storia Instagram sentite l'audio guardate la zero stabilizzazione del video nella storia Instagram insomma, brutta esperienza sembra un telefono del 2007 vi ho chiesto cosa ne pensevate e ovviamente è palese la differenza e poi mi è arrivato un messaggio in Telegram audio da Chiara, non volevo fare il boomer che l'ascolta così mi sono messo così mamma mia che audio metallico non solo dal microfono ma anche dall'altoparlante e poi mi rendo conto di aver fatto partire una chiamata così a caso vuol dire che il sensore di prossimità non aveva sentito proprio benissimo il mio orecchio poi evento Huawei a Barcellona inizio a fare foto all'evento e vi posso far vedere questa per esempio sovraesposta nonostante io abbia tappato là dove sullo schermo c'era tanta luce poi andando a regolare manualmente molto meglio perché le foto non sono male anzi sono belle ma e stessa cosa è successa qua prima sovraesposta poi tappando esposizione corretta poi ho provato a fare un po' di fotografie con l'effetto bokeh mettendo a fuoco questa modella mamma mia questo scontorno cioè io con Photoshop che non so usare lo facevo meglio ma forse anche mio figlio e poi mi ha messo a fuoco anche lui che non era sullo stesso piano di lei cioè lei era in primo piano lui era stato a un metro mezzo metro dietro ma se io tappo su di lei voglio a fuoco lei non voglio a fuoco lui vabbè il software l'esperienza d'uso è lì la differenza non datemi dell'Apple fanboy perché il 16 l'ho massacrato lato pulsante fotocamera che non serve a niente lato display ancora a 60 hertz questo display di questo Xiaomi è molto meglio ma alla fine il telefono lo usi a 360 gradi e qua l'esperienza è un po' così ma torniamo nulla di drammatico attenzione ma nel confronto perde anche perché lui e ve lo dico subito non è che costa 299 399 499 599 699 parte da 799 la versione 256 arriva a 999 euro nella versione con 1 tera di memoria quindi costasse 300 euro il mio giudizio sarebbe diverso questo che va a scontrarsi con i telefoni di fascia alta beh deve avere prestazioni da telefono di fascia alta anche nel software in confezione non c'è il carica batterie non ne faccio una colpa Xiaomi anzi ormai la commissione europea ha deciso così tutti l'hanno tolto va bene abbiamo tutti i carica batterie in casa il problema è che la carica non è standard non è power delivery non so quanto arrivi nel power delivery ma se volete i 120 va dovrete avere il caricabatterie di Xiaomi con la USB A non la USB C anche su questo secondo me bisogna fare chiarezza e uniformare gli standard di ricarica alla power delivery così io prendo un caricatore da 100 watt e so che carico tutti i telefoni a 100, 120 o quel che l'è però c'è la coverina in confezione si tiene abbastanza bene in mano non è piccolissimo ovviamente ma il display piatto fa sì che sia abbastanza comodo vi faccio subito vedere la batteria vi ho detto 5000 mAh sono arrivato dopo una giornata molto stress a sera col 9% ma 5 ore con praticamente tutto 4-5G con poco wifi questa è la scarica che è abbastanza costante nell'altra giornata stress ma più normalizzata che ho utilizzato è arrivato a sera con un 18% quindi tra il 15 e il 20% non scalda mai se non quando veramente gli si fanno fare operazioni processore eccentriche questo Mediatek mi è piaciuto riesce a far girare tranquillamente tutto assimilabile a uno Snapdragon 8 Gen 3 più o meno se vogliamo fare il paragone con Mediatek e le fotografie vengono o effettivamente bene prima faccio vedere come gira nel trittico vabbè Instagram l'avete già visto ma come volete che giri è un processore top gira assolutamente top non ha particolare no non ha proprio lag avete visto adesso in chiusura micro ma proprio micro 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 il feedback della vibrazione abbastanza bene quando si scrive abbastanza preciso poi quando arriva una chiamata e quando diventa una vibrazione un pochino lunga ha un retrogusto molloso ma sono pippe da nerd delle vibrazioni ognuno ha le sue pippe ma ripeto per quanto riguarda come gira assolutamente bene ecco forse la cosa che mi fa girare essendo un telefono che vuole scontrarsi con i top non esce il video dalla usb che è 2.0 per il resto wifi 7 bluetooth 5.4 gps affidabile non è mai un problema in realtà qualche piccolo problemino ma secondo me di acerbosità del software l'ho avuto con qualche applicazione che si è bloccata chiusa riaperta è andato tutto bene ma ripeto solamente una questione di software leggermente acerbo parte telefonica chiamiamo subito il 190 ecco una cosa che mi sta sul piloro dei dei Xiaomi ma questi tutti che quando lo mette orizzontale se ha sentito prima una orizzontalità nel quando era verticale tiene il display come in questo caso in orizzontale ma al volo qua si può togliere la rotazione viva voce devo dire abbastanza bene sentite però che anche la mia voce è un filo metallico non so se forse ripeto vengo da una settimana di prova degli iPhone che hanno un bell'audio telefonico bello caldo bello profondo e qua ho sentito subito quelle note un po' metalliche un po' alte che a lungo andare danno un po' di fastidio e c'è anche questo problema nella capsula auricolare però il Diver di Google per esempio è che qua molto meglio di quello di iPhone perché segnala lo spam insomma per tutta una serie di motivi e personalmente gli Android non amo swipe a destra centro di controllo swipe a sinistra notifiche non amo nemmeno il fatto che quando mi arrivano tante notifiche alle mail a me arrivano tipo 400 notifiche al giorno con 100 mail io se clicco qua non vado all'applicazione mail ma vado alle mail singole quando ne avete 30 questa cosa è scomoda se ne avete poche ovviamente non è un problema e poi anche il fatto che le notifiche se faccio swipe a sinistra è vero è solo questione di abitudine ma non trovo la razio vado al centro di controllo e non ho un'azione rapida ce l'ho solamente se giro a destra vabbè comunque è così come scatta le foto vi faccio vedere al volo l'applicazione della fotocamera c'è google lens integrato effetto film video foto ritratto eccetera eccetera senza attivare video stabile normale si scende al 1080 vedete non si può più utilizzare il 4k è vero che c'è la stabilizzazione ottica ma vabbè per un telefono che vuole essere camera e video phone forse un po' limitante ma le foto vengono bene a patto di regolare un po' manualmente l'esposizione hanno trovato proprio l'esposizione il problema di questo telefono poi grande angolare 1x 2x 5x massimo per mi sembra che arrivi a 50x dove ovviamente va a interpolare quindi sgrano un po' ma avete visto le foto non sono male questa foto all'interno si perde un pochino dove abbiamo delle luci puntiformi anche lì come dicevo prima un problema un po' di esposizione anche questa foto io ho tappato là sopra dove c'era il dipinto mi ha invece fatto un'esposizione sempre tendente all'alto ma le zone buie vedete nonostante l'hdr automatico fosse sempre attivato sono rimaste buie perché guardate questo dipinto come bello e come è luminoso quando sono andato poi a zoomare fuoco abbastanza bene effetto bokeh abbastanza bene naturale ovviamente su questo cibo tra l'altro buonissimo vi metto un piccolo clippina video 4k abbiamo provato il passaggio tra le cam questa è la grande angolare prima era ovviamente la zoom così proviamo anche l'audio ma adesso voglio provare lo zoom massimo anche video devo dire non sono assolutamente male c'è il passaggio tra le cam ovviamente senza effetti solamente in 4k 30 ma quello che vi dicevo questa foto leggermente sovraesposta nonostante abbia tappato al centro guardate poi che bella invece questa dove ho effettivamente abbassato manualmente la luminosità ma questo è successo anche in quest'altro esempio vedete qua malino qua molto molto bene ve l'ho già fatta vedere prima quella della modella qua situazione difficile poca luce le foto vengono veramente bene anche con poca luce ma ripeto bisogna smanettare un po' di manuale invece per assurdo molto bene la foto fatta con la cam anteriore dove l'HDR ha lavorato molto bene qua era un aereo finestrino praticamente super contro luce vedete sono esposto giusto io ed è esposto bene il finestrino e poi questo tramonto bellissimo dall'aereo a Barcellona insomma sì sulle foto ci siamo da sì secondo me se il software andasse a tarare meglio le luci se non bisognasse andare a fare interventi manuali per fare veramente delle belle foto sarebbe un camera phone ma forse lui è solo troppo acerbo di software anche perché arriverà sicuramente un aggiornamento perché arriverà l'intelligenza artificiale Gemini cerchia e cerca di Google ma anche sulle foto la possibilità di cancellare le persone gli oggetti nelle note la possibilità di trascrivere quello che sente e anche la possibilità della traduzione simultanea quanto costa ve l'ho già detto forse non ce n'era bisogno il 14 comunque un telefono che è venuto bene aspetto la serie Redmi 14 che è quella che costa poco e che forse ha senso perché Xiaomi in quella fascia ha senso in questa fascia deve curare di più il software e qua imbattibile Mi Band 9 che non si chiama più Mi Band 9 sulla fascia dei 1000 euro secondo me fa fatica ci vorrebbe più cura software ci vorrebbe di più ma anche più pragmaticità cose base devono andare bene la capsule vabbè ve l'ho già detto ecco forse la versione non pro ha più senso perché costa 649 per la versione 256 le specifiche sono più o meno simili fatemi sapere cosa pensate qua sotto nei commenti ciao ciao